Doppio appuntamento con Eres in potta questa volta però di lunedì per parlare del Gran Premio di Mison Adriatico che è proprio di San Maria della Vila di Rimini per quanto riguarda il moto mondiale. Appuntamento che sto registrando dopo aver parlato della Formula 1 del GP di Olanda, voi ovviamente vedrete il video lunedì alle 14 per dare giustamente spazio sia alla Formula 1 che a priorità su questo canale sia ovviamente alla MotoGP che ha regalato una gara molto più interessante rispetto alla gara di Formula 1. Si è corso appunto il Gran Premio di San Maria della Vila di Rimini che ha ancora una volta regalato lo stesso vincitore delle ultime tre gare perché vince ancora una volta Francesco Bagnaia su Ducati Ufficiale che continua a recuperare punti su Fabio Quartarro che anche oggi ha limitato i danni, a stavolta però Bagnaia ha avuto ragione del best di Rimini e Nea Bastianini che dunque si riscatta e torna un attimo sugli scudi dopo aver appunto appena firmato il contratto con la Ducati Ufficiale. Sappiamo infatti che Bastianini sarà il nuovo compagno di squadra di Bagnaia nel team interno ufficiale Ducati Team Lenovo al posto di Jack Miller che si è accasato in KTM ufficiale al fianco di Brad Binder il prossimo anno. Bagnaia va detto è stato autore di un'altra grandissima gara sempre intesa dall'inizio alla fine, Bastianini comunque ha provato a tornare sotto al pilota piemontese con un passo gara importante soprattutto nell'ultimo terzo di gara. erano attaccati gli ultimi due contendenti appunto Bagnaia e Bastianini fino appunto all'ultimo giro, Bastianini peraltro la salva in un modo insperato alla staccata del Rio se non ricordo male e evita appunto di cadere con una mossa clamorosa, torna su Bastianini poi col giro veloce addirittura all'ultimo giro e perde appunto la prima posizione per 34 millesimi. Se vi annetto che sarebbe stata una rimonta clamorosa va detto che Bagnaia comunque ha meritato di vincere perché abbiamo capito un po' da tante gare a questa parte che Bagnaia è entrato nella modalità un po' Hammer Time la modalità Hamilton quella che quando entrava in rush difficilmente veniva fermato. Qui è un po' la stessa cosa perché appunto da quando Bagnaia ha fatto quel click mentale che lo ha catapultato nella seconda parte di stagione allora il pilota Piemontese non si è fermato più e appunto sono quattro vittorie consecutive questa volta appunto davanti al suo futuro compagno di squadra che appunto fa tornare il team Grisini sul podio dopo evidentemente tantissime gare perché ricordiamo che Bastianini ha vinto tre gare poi ha fatto degli alti e bassi come è normale che sia come due gatti privatissima e dell'anno scorso e qui ha tenuto testa in un contesto comunque favorevole a Bagnaia che ripeto in questo momento è il pilota da battere al netto che comunque la classifica non sorride a Bagnaia ma comunque possiamo dire per usare un termine americano degli sport USA che il momentum è appunto dalla parte di Bagnaia a differenza di Quartarò. È vero che nelle ultime piste c'era l'Austra e Misano che sono contesti che da una parte favoriscono la moto della Ducati Red Bull Ring e dall'altra favoriscono Bagnaia che conosce a menadito il tracciato così come Nea Bastianini fatto stag adesso la classifica del mondiale si accorcia sempre di più perché Quartarò continua a limitare i danni ma Bagnaia appunto mette insieme la quarta sinfonia consecutiva e sono soltanto 30 i punti di distacco rispetto a Quartarò che è comunque ancora indiscutibilmente leader anche se il vantaggio è poco più di una vittoria ed è qualcosa di incredibile perché da Arsenal in poi è evidente come era difficile prosticare che Bagnaia rientrasse in piena volta per il mondiale a meno di una clamorosa serie di vittorie che sta evidentemente accadendo perché poi dopo va aggiunto il fatto che Quartarò non guida la moto migliore e Yamaha l'ha dimostrato anche oggi e infatti si è visto perché Quartarò ha fatto ottavo, secondo e quinto e Bagnaia invece tre volte primo da quando si è ripreso il campionato del mondo ovvero con la gara di Silverstone, grandissima gara di Francesco Bagnaia che dunque va al Gran Premio di Aragon, ultima tappa europea prima del poker asiatico alla conclusione di Valencia con il ritorno finale in Europa con il morale veramente alle stelle certo ci saranno poi piste forse più favorevoli a Yamaha e mi rendono in mente le asiatiche e Philippa Island però Aragon con il fatto che c'è un lunghissimo ridilineo e il motore Ducati sembra anche una volta sul pezzo, attenzione che non ci possa sfuggire la quinta sinfonia di Francesco Bagnaia che comunque appunto sale a 181 punti in classifica del campionato mondiale in seconda posizione sul podio abbiamo Enea Basterini che invece è quarto assoluto a 138 punti che appunto come dicevo torna sul podio dopo Le Mans che fu l'ultima apparizione del Best dei Rimini sul podio che appunto è sempre stata per ora una serie di vittorie perché appunto tre podi in carriera in MotoGP quest'anno e tre vittorie, aggiungiamo due terzi posti a Misano lo scorso anno è un secondo posto sempre a Misano per appunto il futuro pelota Ducati Ufficiale per altro, altro parentesi, io sono molto contento del fatto che Enea Basterini vada in Ducati Ufficiale è un pilota che ha sicuramente meritato questa convocazione, questa possibilità era in lotta con Orge Martin che però un po' per infortuni, un po' per discontinuità sue forse è ancora in questo momento inferiore a Enea Bastianini che di talento va detto secondo me è meno forte di Martin, parlo di talento puro va detto però che con questo binomio Ducati-Cresini e in generale Ducati-Bastianini evidentemente il Best dei Rimini già ha fatto meglio di quell'Orge Martin che va detto ha dimostrato sempre picchi più alti ma con meno gare di scudate per via di grandissimi infortuni un'altra certezza oltre però a Ducati è l'Apriglia che stavolta ne piazza un altro a podio ma questa volta è Maverick Vignales con un Espargaro che è ancora convalescente dopo i problemi avuti nella gara di Silverstone Vignales dimostra che anche lui è un pilota in forma e col binomio Aprilia sta veramente tornando quello che doveva essere un tempo cioè un pilota da prime cinque posizioni con dei podi chissà anche qualche vittoria con l'Apriglia in teoria era stato dipinto come l'Anti-Marquez per eccellenza in realtà Vignales è un pilota più che degno e può fare sicuramente qualche podio grandissima prestazione per ancora una volta un triunfo italiano perché sul podio ci sono ancora tre moto italiane un po' come è capitato spesso e volentieri in tempi recenti per una gara che appunto si è poi concentrata di fatto in testa e alla fine gli altri ha rilasciato appunto le briciole nonostante appunto sia stata una gara parecchio movimentata con tanti Ducati protagonisti nelle qualificazioni ce ne erano addirittura se non sbaglio sette nei primi otto però poi a un certo punto la gara degli Ducati è di fatto finita la prima curva perché appunto già alla staccata della variante del parco già tre o quattro piani sono finiti per la terra tra cui appunto Michele Pirro, Bezzecchi altri piloti comunque anche di classifica in ogni caso è una gara che adesso regala questi piazzamenti per esempio il quarto posto di Luca Marini che appunto pound for pound è il migliore usato della carriera in un contesto anche qui conosciuto per appunto il team VR46 quindi altri Ducati nelle prime cinque posizioni quinto è Fabio Quartarolo che torno a ripetere anche una volta non ha per niente la moto migliore la Yamaha sta faticando un po' come sta faticando la Honda senza Mark Marquez l'unica differenza è che qui il campione la Yamaha ce l'ha ed è appunto Quartarolo che però appunto sta guidando sopra questi problemi della Yamaha che non accenna a migliorare è ovvio come in questo momento la Ducati sia la moto più importante e più performante e addirittura secondo me la Aprilia sia probabilmente come complesso una moto superiore a questa Yamaha Quartarolo comunque riesce a limitare i danni e appunto sale a 211 punti con questa quinta posizione e appunto è un periodo importante anche psicologicamente per Quartarolo che non vince da Saxe Ring e poi dopo da lì ha sempre vinto Bagnaio il suo appunto eterno rivale nelle ultime due stagioni Sesta posizione appunto per Alec e Spargarolo che appunto continua a perdere punti ma ripeto Quartarolo o meglio scusatemi Spargarolo non ha una condizione al 100% ha problemi fisici la moto comunque è competitiva e si vede Sesta posizione appunto per il pilota spagnolo Settimo Alex Rins con l'unica Suzuki di fatto presente in loco perché Mir non era presente in quanto infortunato c'è stata la seconda Suzuki posta tutta dal collaboratore Kazuki Watanabe che però ha finito doppiato è ovvio che in questo momento la Suzuki è un attimo in disarmo visto che l'anno prossimo appunto si ritirerà dalla MotoGP Ottavo è Brad Binder con la KTM ufficiale altra solida conferma in top 10 per il sudafricano non ha posizione per Orge Martin che anche qui le ha prese da Enea Basselini e in parte giustifica la convocazione di Enea in Ducati ufficiale e poi arriva la top 10 per Alex Marquez il migliore delle onda che appunto salva quello che può salvare ovvero punti bassi della classifica per quanto riguarda la MotoGP tutti gli altri italiani sono finiti o fuori dei punti o ritirati tranne uno ovvero Andrea Dovizioso di cui mi fermo un attimo a parlare perché sappiamo perfettamente che Dovizioso ha lasciato il Circus dopo la gara di Misano ha concluso una buona decisiva posizione per quanto buona possa classificarsi la gara del Dovi che comunque ha corso con una Yamaha del team RNF assolutamente non competitiva team RNF che peraltro quando prossimo passerà ad aprilia e non so cosa possa cambiare come appunto costruttore come prestazioni in sé fatto sta che appunto Dovizioso conclude in una stagione in colore la sua carriera ed è un peccato perché sapete io sono sempre stato un simpatizzante di Dovizioso anche quando era in Ducati e ho sempre sperato che fosse riuscito a vincere un titolo del mondo Dovizioso è sempre stato un pilota molto umile molto signorile mi verrebbe da dire un pilota probabilmente di altri tempi che non si vede spesso e per questa sua pacatezza per questo modo pulito anche di guidare per appunto il suo comportamento che difficilmente lasciava delle parole fuori posto al di là appunto del fuori pista mi ha sempre ben impressionato come appunto valori era anche un pilota molto veloce ha di fatto vinto con la Ducati portandola a dei livelli di eccellenza cosa che invece prima non era eccessifatta perché esistò ma che esistò era appunto era un fenomeno appunto lascia uno dei pochi rimasti della vecchia guardia perché appunto è andato fuori Valentino Rossi è andato fuori adesso anche Andrea Dovizioso e appunto sappiamo che dalla prossima gara ci sarà il collodatore della Yamaha ovvero Cal Crascio a sostituire il pilota forlivese che ripeto mi è sempre stato simpatico l'ho tifato quando era in Ducati e non mi vergogno assolutamente a dirlo poteva probabilmente tagliarsi più soddisfazioni con Ducati probabilmente sì anche se l'addir in Ducati sappiamo che è stato veramente burrascoso comunque veramente in bocca al lupo ad Andrea per il futuro della sua carriera che sia chissà nelle quattro ruote come sia stato anche nel 2019 che doveva corso la gara in DTM oppure anche sempre in modo marginale o comunque in modo esterno alla pista per quanto riguarda il moto mondiale staremo comunque a vedere comunque veramente un grazie per la carriera di Andrea Dovizioso ricordiamo campione del mondo 125 se non sbaglio nel lontano 2003 passiamo adesso alle altre categorie in particolare con moto 2 moto 3 e moto E che ha concluso la coppa del mondo ma andiamo in ordine perché in moto 2 c'è da festeggiare la prima vittoria della carriera di Alonso Lopez pilota spagnolo del team speed up con la Bosco Scuro quindi moto italiana che appunto domina assolutamente la gara di Misano e veramente stoglie una grandissima soddisfazione Alonso Lopez ha dimostrato di essere a suo agio con questo team team con il quale è stato vice campione europeo della moto 2 l'anno scorso il primo fu Fermin Aldeguer che corre insieme appunto a lui come compagno di squadra del suo stesso team ma Alonso Lopez ha nettamente buttato la concorrenza e ha sbaragliato evidentemente gli altri contender al podio che per la Conaca sono altri due spagnoli in seconda posizione Aaron Canet del team Flexbox HP40 e terzo Augusto Fernandez che allunga su Ayogura e appunto sale a 198 punti con 394 nel giappone in un mondiale assolutamente molto tirato per Alonso Lopez appunto prima vittoria in carriera e suona per lui la marcia reale peraltro è impressionante come Alonso Lopez è di fatto un rucchi è entrato in corsa perché sappiamo che dalla Spagna è stato stituito con appunto Romano Fenati appiedato è entrato Alonso Lopez e a porti via ha fatto un podio e una vittoria quindi tantissima roba per il 21 in un mondiale che vede però purtroppo anche una volta uno zeo di Celestino Vietti che probabilmente non dico dice addio al titolo del mondo 2021 ma comunque mette una bella pietra sulla rincorsa però al contrario Vietti era partito fortissimo però 5-0 in un mondiale su 14 gare per il momento sono veramente tanti per un pilota che deve pretendere al titolo del mondo certo va detto che Vietti ha comunque l'assicurazione l'anno prossimo di rimanere in moto 2 con il team Fante VR46 è peccato però che in questa gara di Misano ci teneva e doveva sicuramente fare bene di fronte comunque ad avversari che non morono praticamente mai perché appunto Canet ha fatto ancora una volta podio e Augusto Fernandez continuano a fare punti e sbagliano molto molto meno di Vietti Vietti è vero che quando arriva al traguardo spesso fa primi 5 po' di vittorie ma ci sono troppi 0 gli altri contendenti al titolo del mondo vedi per esempio Ogura vedi per esempio Fernandez ne hanno 1 praticamente a testa 1 Ogura 2 Fernandez quindi c'è un attimo da cambiare marcia per Vietti per il resto è un mondiale molto molto aperto che spero si risolva l'ultima gara di Valencia perché 4 punti tra i due contendenti sono veramente pochi si allunga invece il mondiale Moto3 perché Isan Guevara fa podio e allunga su Sergio Garcia squalificato per aver ricevuto una bandiera nera per Irresponsible Riding ma comunque qui invece c'è gioia per quanto riguarda il nostro Dennis Foggia l'italiano di Roma che va direttamente a vincere nella gara di casa terza vettura sezionale per lui per il quale suona il canto degli italiani così come ha suonato per Francesco Bagnana la grandissima gara di Foggia che dà lo strappo appunto a tre giri dalla fine e riesce ad averla meglio dei suoi diretti avversari in questo caso Raome Masia che è un altro contender al titolo del mondo su Red Bull KTM io è appunto lo stesso Isan Guevara che approfitta della caduta di Sergio Garcia per quanto riguarda appunto la squalifica e anche dell'abdicare di Ayumo Sasaki e altri contender che potevano essere molto pericolosi è un mondiale a Moto3 che anche qui sarà molto da seguire non è avvincente come la Moto2 ma qui veramente sono pochissimi i punti che separano i due del team Gas Gas Spar Racing Team in particolare 11 C204 per Isan Guevara e 193 scusatemi per Sergio Garcia Foggia è a 169 certo non è un distacco clamoroso perché abbiamo visto che anche i MotoGP sono 30 i punti di distacco che separano a quattro ore bagnaia certo però la Moto3 è più difficile rimontare visto il solito macello che succede nella categoria entrante e lo sarà immagino anche ad Aragon prossima tappa del mondiale chi invece ha chiuso i battenti per questa stagione è la categoria MotoE che ha proclamato il suo campione che è Dominic Gerter che è un pilota molto eclettico sappiamo che Gerter corre il campionato Supersport quest'anno dominando e probabilmente lo vincerà ha vinto la Supersport lo scorso anno dunque di fatto si appresta a vincere tre titoli in due anni a Gerter basta semplicemente la prima gara del sabato per aggiudicarsi la Coppa del Mondo di MotoE ed è il primo titolo per il pilota svizzera che in realtà rischia di vincerlo anche lo scorso anno ma di fatto atterrò Jordi Torres con una manovra Garibaldina e appunto il titolo andò allo spagnolo e Gerter vince una classifica appunto con il secondo posto di gara 1 visto che Granada appunto cade e deve appunto abdicare il pilota brasiliano ancora una volta si dimostra velocissimo vincendo praticamente più gare di tutti ma evidentemente ancora una volta non vince la Coppa del Mondo Coppa del Mondo che a Misano sorride a due italiani in particolare a Mattia Casadei che vince la prima gara del sabato e seconda vittoria in carriera in MotoE per il numero 27 suona anche l'inno italiano per Matteo Ferrari che è stato il primo campione della Coppa del Mondo di MotoE del 2019 e chiude l'anno nella maniera migliore e vince da davanti al proprio pubblico dunque suona il canto di italiani due volte per i seguenti podi con Casadei appunto primo e Gerter secondo e Ferrari terzo Ferrari che invece si conferma appunto sul podio in gara 2 vincendo la seconda posizione sempre per Mattia Casadei quindi addirittura doppietta italiana e in parte Granado si riscatra dalla debacle di gara 1 facendo podio in gara 2 ma oramai è tardi il distacco era totalmente incolmabile perché appunto il campione del mondo della MotoE 2022 è Dominic e Gerter che ripeto farà doppietta facile con il campionato super sport nel modo di vedere 226 punti per lo Svizzero e 192 e mezzo per Granado di Gerter parleremo anche quando torniamo a parlare delle derivate della serie che riprendono le ostilità evidentemente a Manicur appunto questo weekend ma sapete che io preferirai vedere e Gerter direttamente nelle derivate della serie categoria Superbike questa invece è la classifica della MotoGP aggiornata alla gara di Milano Adriatico sono 30 punti che si appagano Fabio Quartarò da Francesco Bagnaia sarà un mondiale sicuramente più avvincente che Bagnaia sta cercando assolutamente di portare a casa dopo una partenza letteralmente handicap e secondo voi ci riuscirà e vedremo cosa succederà già nella gara di Aragona e saluto da parte di Matthew Torgaard ci vediamo al prossimo Grazie a tutti